ripeto era era voluto anche stavolta era voluto cioè mi sembrava così presto ma ho beccato due oppo e li avevano entrambi non era molto in media eravamo ancora in sé in gioco quando quando l'ho fatto posso rollare la bilbestia è peggiorata tantissimo non è per quello che abbiamo perso lo so giacca che sto parlando di statistiche non sto parlando di quando è possibile averlo hai buone possibilità di vincere del reglito fresca fresca è forte il lupo cattivo raga ma voi vi drogate voi fate abuso di alcol e droga boys non fa niente capita a tutti ogni tanto non è il più forte ma combatterà con onore è già tardi il lupo per terzo rischia di non prendere il buffo e l'attacco però iniziare così rischio di annullargli un attacco quindi in realtà mi conviene venendo capobranco iene il ratto non mi dispiace come idea non mi dispiace come idea forse sì eh forse sì madonna mia che roba buttare via ratto e cavobranco insieme allo stesso turno non lo so i tuoi servitori hanno davvero dato tutto questo è buono quello potrebbe fare la differenza non è il più forte ma combatterà con onore molto tardi il metalupo così in fondo però le altre le vedo peggio quindi va bene mi sembra di non poter mai perdere l'early game è una parte del mid facendo così e di fare anche dei bei danni per essere nel mid no avendo 55 di partenza questa cosa potrebbe darmi un grosso vantaggio più in là adesso livelliamo taverne adesso livelliamo taverne questo per una possibilità di tripla sicuramente bruttino meglio assoldare una recluta finché puoi farlo potrei anche prenderli tutti e tre quelli lì al prossimo turno come cazzo fa avere buggy monster questo what the fuck tra dagli sto coso per l'amore di dio vabbè che cazzo è riuscito a fare sto tipo qua vincendole tutte due triple come cazzo fa la gente non è meglio far attaccare due due che baffano prima della bomba secondo me no secondo me no perché la bomba può togliere letteralmente un pezzo all'oppo ancora per adesso quindi capisco che sia tardi per per gli spostamenti però non credo ma non c'entra l'eropower lì nev ragazzi quanto cazzo vi fissate su sti eropower l'eropower conta veramente a meno che non sia come cazzo si chiama non mi ricordo il murloc che vende pezzi escluso lui l'eropower conta pochissimo poi è una questione di culo di che cazzo ti esce vedi perché è molto presto il la bomba gli ho tolto proprio una possibilità di trade quindi rimangono tutti a uno e cosa devo fare gli rimangono tutti un hp pazienza basta non perdere siamo contro quello più forte di nuovo e vorrei una triple di sta prole now se aspetto ancora non ce la facciamo questo è buono mi piace il tuo modo di pensare credo che farò così ho sbagliato devo comprare questo e venderlo ho sbagliato chat un altro cliente mistakes were made chat potevo avere una 4-4 per questo round boh io non so la gente come fa ad avere delle robe così vetti 5 tanto muori no no non è detto che muoio non è detto che muoio tradando così sicuramente muoio tradando diversamente non è detto che muoio questo è ottimo questo è ottimo non è il più forte ma combatterà con onore finalmente idra mi piace il tuo modo di pensare finalmente idra adesso purtroppo questa non vale più così tanto potrei pensare di buttarla via sicuramente la buttiamo via potrebbe esserci la prima idra di là quindi questo lo mettiamo su questo lato a protezione facciamo un roll gratis prossimo turno livelliamo di sicuro nefarian dovrebbe essere più che fattibile vediamo un po' se tanto sei di perdere upa non sapevo di perdere assolutamente potevo addirittura vincerla con dei trade diversi andare di tripla di bomba è rischioso e non ne vale la pena che forte non gli ho preso lo scudo di vino mannaggia ok un altro 50 e 50 cannato a manetta questo è ottimo dipende da dove vanno benissimo benissimo non possiamo perdere easy buona 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 ottimo finalmente mi verrebbe da dire potrei buttare via entrambi e iniziare con i battle cry direi di sì un'altra amalgama beh cioè rispetto a questi suppongo di sì facciamo sto rollino eccola la nostra amica va bene così prendiamo l'amica e poi siamo in tempo per lei vabbè abbiamo due amalgama quindi in realtà siamo in tempo spero nella tripla di ratto perché così non devo buttare via niente tra un po' anche jine diventa poco utile è vero tra pochissimo forse è già dal prossimo guarda questo come sta va bene no la bestia lo fa lui quindi bestia lo fa tutto lui quindi e ti pareva che non tradavi lì ma sei veramente un cane porca troia togli quella 3-3 ma guarda che veramente sei un ragazzino curioso eh va bene dai ho preso meno danni mi chiedo come l'abbia fatto a vincerle tutte finora lui allora un giro per vedere se becco una tripla lo faccio manco per il cazzo proprio allora chat ok a me piace anche argus però addirittura vendere quello mi sembra esagerato vendere questo vuol prendere argus mi sembra esageratissimo cazzo meglio assolvare una recluta finché puoi farlo va bene 2-2 davanti no perché perché 2-2 davanti l'ho fatto ormai ma mi sembra una cagata perché 2-2 davanti ma no ho fatto una stronzata in ogni caso non è adesso 2-2 davanti è troppo presto per il 2-2 davanti è troppo presto Nabbo adesso che siamo in 4 sicuramente la 2-2 davanti ma farlo prima è stata una cagata non è cambiato niente perché va bene però ah questa vale sicuramente più del favorito purtroppo non ho trovato tutti questi battlecray però ho trovato doppia scagnozza quindi non mi lamenterò mi piace il tuo modo di pensare potrei anche fare questo eh senza andare troppo in là con la fantasia non è terribile è ora per il mio prossimo dunco sistema di pensiero attivato corruzione totale potere totale allora demone bestia murloc mech in realtà se compro il vengente mi inculo pazienza questa deve andare appena dopo forse è tardi eh come terzo attacco lo sapevo che si fregava il buff mannaggia la troia vabbè vinciamo lo stesso come vien da dire no dipende dalla mamma come sta carico questo qua madonna gg lo lasciamo uno porca troia che odio che odio i servitori hanno davvero dato tutto questa è ottima mi piace il tuo modo di pensare bella scelta molto tazzica solo che a questo punto io non so più dove piazzare lui probabilmente dove sta ora goldrin molto buono goldrin molto buono goldrin credo che congelerò mi terrò questo come coin ah siamo contro il primo cazzo vabbè 25 danni non mi fa perdo ma non mi fa mica 25 danni ha fatto un'altra tripla lui che campione porca puttana lui non è forte questo è abbastanza buono ma non tantissimo perché gli rimane gli rimane quel 17-4 che è veramente terrificante il 16-4 mi spaventa molto di meno perché tanto mi toglie una 2-2 buona buona GG easy ciao Luca quando perma that pokemon tra un'oretta 25 danni non me li fa no non me li fa decisamente raga più 16 più 16 tutti i turni stiamo facendo non è che cioè mantieni la pressione nel senso nel senso potrei quasi livellare siamo contro un morto pinna tossica prossimo turno questo è un piccolo giustamente ma potrebbe fare riferenza vediamo un po' per il fatto che questo spona le 1-1 che ridanno lo scudo alla guardia mi direi che va bene così ovviamente concediamo al pinna e vediamo Goldrin ti ruba i buff cazzo sapete avete ragione è vero l'ho preso praticamente in automatico ma avete ragione però cazzo è forte non è detto che me lo rubi e in più 4 più 4 sull'Hydra è forte ovviamente me l'ha preso ovviamente me l'ha preso perché la statistica a noi fa schifo però va bene così dai quindi si apre il pezzo va bene così uh sullo scudo non posso mai perdere quindi non ce ne frega neanche tanto dopo lo levi beh dopo lo levo di sicuro il problema è che speravo che non si rinculasse proprio adesso siamo andati in pari non è una tragedia siamo andati in pari direi che può andare siamo di nuovo contro il primo io Goldrin lo sto per vendere ok 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 un servitore un servitore in meno una moneta d'oro in più credo che sia tardi per la tripla di guardia di cobalto cobaldo cobalto ok quindi in realtà ne approfitto per fare due extra roll meglio assolvare una recluta che puoi fare questo va sull'idra sì dovrebbe essere questo è il positioning migliore che abbiamo adesso 19-13 doppio poison beh dipende da dove va la nostra idra dai anzi non dipende perché la nostra idra va sul taunt gli togliamo uno dei due poison dovrebbe andare bene qua abbiamo un scudo divino sulla 23-4 quindi non possiamo mai perdere stiamo bene stiamo molto bene stiamo molto bene chat anche l'enforcer è diventata superflua se non trovi subito una tripla dipende dai pezzi che trovo adesso che sono livello 6 può essere superflua è vero fa ridere però può essere superflua cioè averlo doppio almeno 16-16 è figo ma potremmo davvero trovare di meglio cioè se io adesso trovo per esempio due droppe a 6 super fregni probabilmente mi convengono quelli non credo che valga la pena un'altra minaccia metterei qua nah siamo contro un morto poi posso ottenere una tripla boys ci provo dai prendiamo il droppe a 6 lo so che sono due due sono più forti bla 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 lo so lo so restrizioni di sicurezza disattivate attivazione meccanismi di mietitura hai la vittoria in pugno sei in prima posizione due sono più forti gna gna mettiamoci un po' di pepe in questa partita anzi forse devo mettere prima la way stupida e poi la way forte sì forse devo mettere prima la way stupida e poi la way forte errore 37 giga amalgama sono più forti due no Ascarat non è il punto se perdiamo o no non è detto che perdiamo però sono più forti due amalgama taunt e poison di una sola amalgama gigante perché tanto lui c'ha lui c'ha poison ci ha anche fatto vedere già che ha poison quindi il punto era quello però mi voglio divertire allora potrebbe valerne la pena se siamo veloci dai lol no no che la carota ti guidi lol lui prima la way stupida comandante forse era forte già qua no congeliamo dai qua perdiamo e congeliamo qua perdiamo andiamo sotto di vita e poi facciamo il comandante cleave cleave stupido prima del cleave forte direi che ci sta dang vabbè ma lui non è migliorato di un cazzo però quindi in realtà a noi che ce ne frega ma lui non è migliorato per niente comunque come fa a essere ancora lì non perdiamo mai cazzo che faccio trollo lo stesso con annikilan che devo fare sì lol vale il serpente di me ti leva i buff non scherziamo ronin non scherziamo siamo a late game più due più due non più due più due non ha più nessuna importanza le stat gratis che mi tira fuori questa sono molto più forti allora via la scagnozza forza niente questa alla fine è figo lo stesso perché tanto costa uno quindi va bene così sì vorrebbe funzionare così l'ho è stupida prima dell'ho è gigante lo facciamo malissimo però dipende da questo mamma orsa quanta roba tira fuori buona mamma orsa gg ma vinciamo di tantissimo comunque stang guarda quanti punti dirà fuori la la sette mana è stracomoda per quello la sei mana voglio dire è stracomoda per quello in una fase così è chiaro tutto qua continua a salire baby un altro primo oh my god gg gg gg